Il termine fotone ha senso all'interno dell'ambito della meccanica quantistica, infatti quando si parla di fotone ci si riferisce all'idea di quanto del campo elettromagnetico. Nonostante ciò, però, noi possiamo comunque riferirci al fotone come se fosse una sorta di particella di luce. Quindi anche in ambiti che non siano strettamente quello della meccanica quantistica, noi possiamo riferirci a questo concetto come se stessimo parlando proprio della luce stessa, come se fosse fatta di piccoli pezzettini che si muovono nello spazio. Ecco, proprio in questo contesto solitamente si dice che i fotoni non possiedono una massa, cioè sono particelle senza massa o con massa nulla. A questo punto, però, noi notiamo che i fotoni trasportano comunque dell'energia. Ce ne accorgiamo in estate, ad esempio, quando ci scottiamo stando sotto al Sole. Ci scottiamo proprio perché ci è arrivata tanta energia sotto forma di onde elettromagnetiche, quindi possiamo immaginarci che questa energia sia stata trasportata dai fotoni. A questo punto, però, ci viene in mente che noi sappiamo anche che E è uguale a M per C al quadrato. In altre parole, noi sappiamo anche che energia e massa sono equivalenti. Ne abbiamo parlato in molti video delle settimane scorse. Come fanno i fotoni ad avere un'energia e a non avere una massa, se massa ed energia sono equivalenti? Proviamo a rispondere insieme a questa domanda. Come sempre in fisica bisogna fare un po' di chiarezza quando si tirano in ballo dei termini nuovi. E la situazione peggiora drasticamente in relatività, perché noi stiamo tirando in ballo dei termini vecchi con una concezione nuova. Quindi noi stiamo utilizzando parole che pensiamo di conoscere, ma in realtà in relatività queste parole spesso hanno significati nuovi e poco intuitivi. Cosa intendiamo dire quando diciamo che un fotone ha una massa uguale a zero? Quello a cui ci stiamo riferendo è la cosiddetta massa a riposo, quindi la massa misurata nel sistema di riferimento in cui quell'oggetto o quella particella sono fermi. Il problema sostanzialmente è che in relatività non ci sono sistemi di riferimento all'interno dei quali i fotoni possano essere fermi. Proprio per come è costruita la geometria dell'universo all'interno della teoria della relatività ristretta, se un oggetto si muove alla velocità della luce in un sistema di riferimento, allora si muoverà alla velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento. Quindi un fotone si muoverà sempre alla velocità della luce e non esiste un sistema di riferimento in cui un fotone sia fermo. Quindi il concetto di massa a riposo non ha proprio senso per un fotone e infatti i fotoni non hanno massa a riposo, o meglio hanno massa a riposo uguale a zero. Ora, cosa intendiamo quando diciamo che un fotone invece possiede dell'energia? Da un punto di vista tecnico si scopre che un fotone è legato a un campo elettromagnetico che oscilla, quindi a un'onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto, visto che ci stiamo riferendo comunque a una situazione in cui quel fotone si muova proprio alla velocità c, che è la velocità della luce nel vuoto. Un simile campo elettromagnetico che si propaga nel vuoto dovrà oscillare con una certa frequenza e si scopre che un fotone ha un'energia che è legata proprio a quella frequenza di oscillazione del campo elettromagnetico tramite una relazione abbastanza semplice in realtà, che è questa qui, E uguale H per Ni o H per Nu, come preferite. Quindi quell'energia del fotone è legata alla frequenza del campo elettromagnetico e alla costante H, che è la cosiddetta costante di Planck. Questa è la formula che ci fornisce l'energia di un fotone, quindi più è alta la frequenza del campo elettromagnetico, più è alta l'energia del fotone. E torniamo all'esempio estivo, in cui noi ci scottiamo al Sole, ecco, quando noi ci scottiamo al Sole, quelle scottature sono dovute principalmente ai fotoni che appartengono a quelle onde elettromagnetiche che hanno un'alta frequenza, quindi verso l'ultravioletto. Come sempre vi ricordo che il modo migliore per sostenere questo mio progetto di divulgazione e comunicazione della fisica è mettere un mi piace a questo video e iscrivervi al canale e ovviamente anche guardare altri video di questo canale, mettere mi piace anche a quei video e così via, ma andiamo avanti. Ora parliamo dell'equazione E uguale m per c al quadrato. Vi invito naturalmente a recuperare anche gli ultimi video in cui ne ho parlato approfonditamente, però in poche parole questa equazione si può leggere in due modi. Il primo punto di vista è quello secondo cui questa equazione rappresenta l'energia a riposo di un oggetto dotato di massa a riposo m minuscola e a partire da questa massa a riposo noi possiamo definire l'energia a riposo come m per c al quadrato e se in più questo oggetto dovesse anche possedere una quantità di moto che indichiamo con la lettera p minuscola, allora questa quantità di moto si aggiunge alla nostra espressione dell'energia e abbiamo l'energia totale relativistica e maiuscola che è data dalla radice quadrata di m alla seconda per c alla quarta più p alla seconda per c alla seconda. Insomma, abbiamo un'energia totale relativistica data da un'espressione che contiene sia la massa a riposo del corpo sia la sua quantità di moto che diventa diversa da zero quando il corpo inizia a muoversi con una certa velocità. Poi per capire tecnicamente come mai ci sia quella c, come mai questa p si definisca in un certo modo, vi rimando al video di settimana scorsa. C'è però una seconda lettura molto più profonda che possiamo dare di E uguale m per c al quadrato, cioè a partire dall'idea che comunque si tratti dell'energia a riposo, quindi dell'energia legata a un corpo fermo nel proprio sistema di riferimento, noi possiamo anche dire che all'interno di quella massa, m minuscola, non esiste solo il contributo dato dalla somma di tutte le masse che costituiscono quel corpo, ma abbiamo in più anche altri termini legati all'energia che è contenuta in quel corpo sotto varie forme, può essere un'energia contenuta sotto forma di legami chimici, di legami nucleari e così via. Tutte cose che comunque non sono molto conosciute al grande pubblico e nemmeno ai tecnici del settore purtroppo, ma vi ho parlato approfonditamente anche di questo sempre nel video di settimana scorsa. Insomma, in poche parole E uguale m per c al quadrato si può leggere come il fatto che all'interno della massa a riposo di un corpo è contenuta dell'energia che potrebbe essere liberata in qualche modo. E se noi siamo in grado di liberare quell'energia, allora abbiamo una diminuzione di quella massa a riposo, m minuscola, con conseguente liberazione di energia. E per legare la variazione di massa all'energia che è stata liberata utilizziamo proprio E uguale m per c al quadrato, dove in questo caso la m indica una variazione di massa. Purtroppo però esiste un terzo modo di interpretare E uguale m per c al quadrato, modo che oggi è stato per fortuna abbandonato negli ambienti tecnici, però è un modo di leggere E uguale m per c al quadrato che rimane nella divulgazione di massa e questo è un problema perché crea molta confusione. Vi ricordate quell'energia totale relativistica che vi ho introdotto prima, quella radice quadrata con all'interno un termine che riguarda la massa a riposo e poi un termine che riguarda invece la quantità di moto, o meglio quantità di moto relativistica, ecco a un certo punto ci si è messi in testa che fosse più comodo esprimere l'energia totale relativistica proprio come E uguale m per c al quadrato, in cui però m per c al quadrato rappresenta quell'intera radice quadrata. Questo significa che quella m minuscola non è più la massa a riposo ma è un'altra cosa che contiene al suo interno anche le informazioni riguardanti la quantità di moto relativistica. Questa m minuscola ha preso il nome di massa relativistica, che quindi non è più la massa a riposo da sola ma in più si aggiunge anche tutta la parte riguardante l'energia cinetica del corpo. Questo però ha portato anche all'introduzione di diversi concetti un po' confusi all'interno della divulgazione, infatti trovate numerosissimi testi divulgativi in cui si dice che quando un corpo raggiunge velocità molto elevate, paragonabili a quella della luce, la sua massa aumenta. Solo che in quel caso non si parla della massa a riposo del corpo ma si parla di questa ipotetica massa relativistica che però non è veramente una massa in senso stretto, cioè in senso moderno, ma è appunto un contenuto di energia che al suo interno deve anche tener conto della quantità di moto dell'oggetto. Quindi non è vero che quell'oggetto ha una massa cosiddetta inerziale o massa a riposo che aumenta con la velocità, ma la massa m minuscola in base alla formula che abbiamo visto prima rimane la stessa e in più si aggiunge un contributo. Solo che si è voluto a tutti i costi continuare a parlare di massa relativistica però mescolando in questo modo il concetto di massa vero e proprio con il concetto di energia cinetica. Tecnicamente parlando quindi non si parla più di massa relativistica, è un termine completamente in disuso negli ambienti tecnici. Si parla di massa a riposo e poi si parla di energia totale relativistica e nell'espressione dell'energia totale relativistica entrano in gioco la massa a riposo e la quantità di moto relativistica. A questo punto però parliamo di fotoni. Beh, i fotoni non hanno massa a riposo, quindi come fanno ad avere un'energia totale relativistica? Beh, è abbastanza semplice. Prendiamo l'espressione moderna per l'energia totale relativistica. All'interno di questa espressione vediamo chiaramente che la massa a riposo può essere uguale a zero, ma rimane comunque il termine contenente la quantità di moto P. E, sorpresona, i fotoni hanno una quantità di moto. È una cosa che si può verificare sperimentalmente, è anche un fatto alla base delle cosiddette vele solari, cioè alla base di oggetti dotati di massa che però sono in grado di farsi spingere, quindi di ricevere quantità di moto dai fotoni che invece sono senza massa. Ovviamente l'espressione per la quantità di moto di un fotone non sarà massa per velocità, visto che i fotoni non hanno massa, ma l'espressione invece tira in ballo la lunghezza d'onda della radiazione a cui è associato quel fotone e la costante di Planck H. La quantità di moto di un fotone quindi è semplicemente H fratto λ, dove H è la costante di Planck e λ è la lunghezza d'onda. E se noi inseriamo questa grandezza P minuscola, quindi questa quantità di moto relativistica del fotone nell'espressione dell'energia totale relativistica, otteniamo la classica espressione E uguale H per ν, che è proprio l'energia del fotone. Quindi un fotone non ha massa, possiede però quantità di moto e quindi possiede energia totale relativistica. Chiaramente se noi volessimo far uso del termine che ormai è in disuso, massa relativistica, allora potremmo dire che sì, il fotone ha una massa relativistica diversa da zero, proprio perché in realtà non stiamo parlando di una massa, ma stiamo parlando di un contenuto di energia. Quindi attenzione che l'equivalenza massa-energia non ci dice che ogni volta che abbiamo un'energia abbiamo anche una massa, ma ci dice che massa ed energia sono equivalenti, quindi possiamo trasformare un'energia in massa e una massa in energia. Per trasformare una massa in energia possiamo ad esempio far uso della cosiddetta fusione nucleare, in cui abbiamo un sistema iniziale, quello del trizio e del deuterio, che hanno una massa complessiva elevata, poi abbiamo la fusione nucleare che trasforma questo sistema in un secondo sistema dato da un nucleo di elio e un neutrone libero. Questo secondo sistema ha una massa complessiva minore, proprio perché parte dell'energia contenuta inizialmente nel sistema è stata liberata sotto forma di energia cinetica principalmente. In questo caso quindi abbiamo una trasformazione diretta di una massa complessiva in una massa complessiva finale minore più un'energia cinetica. Esiste però anche un processo inverso. Noi possiamo trasformare una pura energia che non ha massa in massa complessiva di un sistema. Un esempio abbastanza semplice da comprendere è quello di un fotone che rimbalza fra due specchi all'interno di una cavità. Supponiamo di avere una scatola, detto in modo semplice, con due specchi che si trovano uno di fronte all'altro. Questa scatola avrà una certa massa che indichiamo con la lettera M1. Successivamente immaginiamo che ci sia un fotone che arriva verso questa scatola. Quel fotone avrà una massa a riposo nulla, quindi la sua massa è uguale a zero. Tuttavia se il fotone dovesse essere in grado di entrare all'interno di questa scatola, quindi di questa cavità, e cominciasse a rimbalzare fra quei due specchi, allora io dall'esterno vedrei il sistema complessivo della scatola con dentro il fotone possedere una massa un pochino più alta di prima. Questo perché il sistema complessivo ha una massa a riposo sempre, che chiamiamo M2, che non è solo la massa M1 della scatola, ma dobbiamo aggiungere anche il contributo alla massa totale dato dal fotone, però non dalla sua massa a riposo, bensì dalla sua energia. In questo caso quindi, andando a vedere il sistema all'interno, noi vediamo un fotone che ha solo un'energia e non ha una massa a riposo, però considerando il sistema complessivo della scatola con il fotone all'interno che rimbalza avanti e indietro, questo sistema avrà una massa un pochino più grande, proprio perché il fotone effettivamente sta continuando a rimbalzare avanti e indietro e quindi non se ne va mai via da quel sistema. Quindi è una sorta di vera e propria energia immagazzinata dentro quel sistema. Ma il fotone singolarmente non ha massa a riposo, semplicemente è in grado con la sua energia di aumentare la massa a riposo complessiva del sistema, che a questo punto sarà data da M1, quindi massa della scatola da sola, più l'energia del fotone fratto C alla seconda. Spero con questo video di aver chiarito alcuni punti riguardanti l'equivalenza massa-energia, soprattutto in riferimento al fatto che si osserva che un fotone non ha massa, quindi uno potrebbe chiedersi ma come fanno queste due cose ad andare d'accordo, ma soprattutto vi invito a pensare ad altri esempi come quello della scatola con il fotone all'interno, perché sono esempi molto istruttivi che ci fanno capire a fondo quello che vi dicevo all'inizio, cioè che diversi termini, addirittura i termini massa ed energia che ci sembravano completamente chiari ed evidenti nell'ambito della meccanica classica, assumono significati nuovi e portano a ragionamenti che hanno delle conseguenze poco intuitive e che ci fanno capire che spesso è un errore semplificare troppo argomenti come questi. Bisogna andare nel dettaglio per capire veramente bene cosa stiamo dicendo. Se volete approfondire trovate in descrizione un po' di link con articoli, video e altre cose simili. Io vi ringrazio per aver guardato, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!